E quando vivi in Sicilia e si avvicina all'ora del tramonto sono attimi da immortalare, attimi da condividere, attimi da vivere. E noi, ciao ragazzi e tanti ragazzi, tante persone, tanti di voi ci seguono con tanto amore, tanta attenzione. Questo video è dedicato a voi, a chi è lontano e non può godere di questo momento, a chi in questo momento si trova altrove e non può assistere a tali istanti. Beh, questo video è dedicato a voi, agli amici di Bella Sicilia che quotidianamente assistono ai più vari momenti tra le bellecce della nostra isola. Oggi ci troviamo a Torrenova e questa passeggiata, giungendo fino al mare, ascoltando il suono di quest'ultimo che tanto emoziona e tanto carica. Salutiamo tutti gli amici che si stanno collegando, fateci sapere anche voi da dove ci state seguendo. E cosa rappresenta per voi il tramonto, cosa suscita nel vostro cuore, cosa provate ammirando ciò che vi stiamo mostrando in diretta in questo momento. Ed Angela scrive che bellezza. Lusina ci saluta da Cracovia. Mentre continuiamo noi a camminare, arrivando fino alla spiaggia. Ebbè il tramonto sul mare, il momento straordinario che oggi godiamo insieme a tutti voi in diretta, mostrandovi sempre ciò che è di più bello, ciò che più emoziona. E la Sicilia ha molto da offrire, ha molto da emozionare. Salutiamo Angela dal Canada. Angela scrive bellissimo. E scrive anche vedo vita. Poiché quando chiesi poc'anzi cosa suscita in voi tale momento. Acco stai. Suscita vita. E salutiamo Sergio che scrive grazie per quello che ci propone. Salutiamo Carmelo, Tonio. e grazie a voi delle vostre attenzioni, grazie dei vostri pensieri, dei vostri commenti. Mentre tra pochi minuti il sole scomparirà. E sarà trascorso un altro grande giorno in Sicilia. Salutiamo Ansia dalla Calabria. Richard da Scotland. Salutiamo Maurizio. E Luana scrive è bellissimo. Io lo vedo quando vado a San Fratello. Io vivo a Milano ed è stata escendo perché è meravigliosa. Grazie Luana per questo contributo scritto. Veronica invece scrive un bel libro e una bella lettura sarebbe l'ideale. Ebbene, hai profondamente ragione. E ti salutiamo. Salutiamo a tutti gli amici tedeschi, in quanto ci segui appunto da quello stato. Salutiamo Salvatore dal Belgio, Deborah e Francesco. Fadeci anche sapere quale dei nostri contenuti apprezzate maggiormente. Se c'è anche qualche consiglio, anche qualche suggerimento, volete vedere qualche piatto, qualche zona, qual è la zona della Sicilia che amate particolarmente, lasciatelo scritto anche nei commenti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E noi ringraziamo tutti voi per tutti i cuori che state lasciando. per tutti i commenti, per tutti i vostri pensieri e apprezzamenti, ma soprattutto per aver vissuto con noi questi otto minuti. davvero emozionanti. Salutiamo Elena dall'Argentina. Emanuele. E voi continuate a scrivere i vostri pensieri, i vostri saluti e condividete il video. se vi è piaciuto, se vi è piaciuto, magari inviatelo, inviatelo anche a qualche amico. E' l'entusiasmo dei più piccoli. E' l'entusiasmo dei più piccoli. di tutelare, di tutelare e di veicolare. E' l'entusiasmo dei più piccoli. E' l'entusiasmo dei più piccoli. E' l'entusiasmo dei più piccoli. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no.